Devano Prio Gyan, Darshan, Chari, Tror, Tab Is Mokshmar ki Arad na me Jal Ek Siddhi, Sanmukh, Atma, Purushart karata hai Tap-tap us ke liye Past visarjan ka Budhkala ke visarjan ka param nimit hota hai Chari tera Bhavisya sarjan kerta hai Or tap Budhkala ka visarjan kerta hai Chaitra Gun sarjan ka upai ben jata hai Or tap Avugun visarjan ka nimit ben jata hai Jho tapushya kertae kertae Jho tapushya kertae kertae Hemare anndar ke Alag-alag prakara ki avugun kshay ho jaya na To waha tapushya upkara gwen jati hai Jis prakara se Sareer me aneek rog hote hai Ishi prakara se Atma me bhi aneek aneek prakara ke rog hote hai Kabhi krodh hota hai Kabhi raag hota hai Kabhi ashaktiyoti Kabhi moh hota hai Kabhi ashaktiy hota hai Kabhi hinsa ka bhaa hota hai Kabhi vikar ka bhaa hota hai Kabhi ninda ki bhaa hota hai Bhagavan ne ka atma ke bhi Aneek aneek rog hote hai Aneek aneek rog ho per Oshat ke rop me Is budkarl ka viserjan karne ke liye Is budkarl ke rog ho ka viserjan karne ke liye O budkarl ki vrutti ka viserjan karne ke liye Tapta mahat wa hota hai Or nahi humeishya ke liyee kehita ho Khi hem Hemare anndar me Aishit baha sa raya ugun hote Jis ke anndar me Hem kud koi Kabhi nina jan shakti nina semash sakti hai Me bár bár katao ke hemare anndar me Jog vrutti hoti hai na Hoa humeishya ke liyee demand ki hoti hai Aishit shayye Hemare anndar me Bár 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 punapti hai Yee leloo Yee kha loo Yee phen loo Yee praapti ho jai Aishit shayye Aishit shayye Aishit shayye Aishit shayye K Alice Kyi logo ko Dekhna ha Shopping Kanda nina Baut Mujahata ha Kyi Aishit shayye Aishit Kyi Aishit shayye Aishit shayye Aishit shayye Aishit shayye Aishit shayye quindi una volta che ho parlato solo una volta che io che quando ti shopping per farlo o non quando ti fanno shopping per niente non ci sanno un po' di una volta e'n e'necone 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 che sanno che sanno non ci sanno a'necone e'necone un po' di di una volta che si parla di fare un'impianto di fare un'impianto di pagare il nostro corso. Il mondo in cui centri di soldati e prodotti di soldati e prodotti restano, restano. E come 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 si è venuto il nostro prodotto, il nostro pubblicità è venuto. E come come tu vieni il pubblicità, il nostroellingo, il nostro storico, in una nuova, in una parte in un'altra parte, e che che hai, come sono troppo questo è poco è molto molto yes si trovi la parte ha inaudito mona non ho non proprio cuore cosa che è per dove non che con che non è ciò prima non quindi è così che è un'unclu l'acchè questo si chi corre questo se mi come un'unclu questo si mi come un'unclu questo è molto meglio questo mi piacchè questo mi si è molto ingero queste inizioni comunque ad vedere il come anche il come tutto a non c'è ora 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 non c'è ne non c'è ma said il questo Four premieri sommeggiata Poi un passaggio Sembitargo Ma resti pachkan Chi ha? Those Voi è una Pol Argbord La ossia Forescu Votnas Convezz Convezz Convello Convezz 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 mi Voi Convezz Convelli Convezz Convezz La una volta prima di prendere se fosse durata da un po'. Non c'è questo che anche io non mi danno fa. Ma quando avessi essere a prendere l'acquesta, a prendere l'acquesta, e si avessi non. Vai avessi così, poi va avessi in atto. Non in procesi, non bisogna prendere l'acquesta, non bisogna prendere l'acquesta. Noi, non bisogna prendere l'acquesta, allora dovessi prendere l'acquesta. In ora, in quanto vedete l'acquesta, non vogliamo mettere prorotti e lavorare nella pratica cine background vogliamo mettere prorotti u Dutch si mettere such ye collaggia sowò Terga кт dice Hz che post informe il terro il terro è управ pretty far si interessate lo struttete ha però qui su av si no e questo tutto adesso quando ti app questo Sardeguộngi 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 Ciao Orgutkallic Au Gugno Bu Sardegu E I Sardegu E Da Che Passi As A As As che Questo è il fatto che non si stavano stare. E noi non si stavano stare. As-is, poi incontro. Adesso non si stavano stare. Non si stavano stare a un'istia senza esserenesse. Perché nessuno si è disposto alla mobile di persone che adesso si è venuto. Perché non è nei confronti della nostra casse? Si non è il nostro bolognese di essere in casa. che ci sono per l'ocche di questo e questa è la nostra che ci sono inizia e anche ci sono inizia e questo è il nostro mi dicevole allora allora io mi dicevole un po' e poi mi dicevole e poi mi dicevole e quando mi dicevole non è un po' mi dicevole mi dicevole e poi mi dicevole mi dicevole non è una schiavo di morte, non è una schiavo di morte di cui è una schiavo di chi? Ci sono stati di alcuni di altri, P.U.S.B.S.P.S., io vi ho detto così, cosa ho detto? D'anchevri, ci sono stati di alcuni di altri, Non è niente come, ma è un'inizio che è stata saltata, e lui è anche l'escrita! Inizia la sua vita, non è la sua vita, non è la sua vita, non è la sua vita, che si è il problema che non è l'addici rispondi o non è che si sta facendo si sta facendo su premio alla per la prevedere una prevedere cioè deve essere un premio di seven ma di essererendita in cui che non sia che attraverso senza non lo facendo e non lo facendo e poi anche se intenzioni le loro pensi che è il premio del premio di rai ghi senza adikari una cosa si può svolgere si è poi che ci sono dicevole che ciò che ciò si è poi si è cosa non non si prima che si ? si che ci davano di inserire e ormai ci sono che ciò che ciò che ciò che ciò che ciò che hai ciò che eh ciò che ciò che è e cosa è ma 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 non sa cosa ha inizia ma 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 si così allora io mi tämä che che possiamo se si c'è c'è se si 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 non si è venuto a prendere le pachkhan maon maon ke pachkhan in ogni giorno non si provate in 24 ore 22 ore maon ke pachkhan maon ke pachkhan maon ke pachkhan 22 ore non maon ke pachkhan maon ke pachkhan e 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 kalpesh bhaistah mujhe pрашna puchh rhe hai gurdavidi mushti pachkhan am khollam bhu l jayenge tais ke lì kya prayashit ho ga kya karna hai ki pahle ek meheni ke lì aapko agar sahid pachkhan lene hai ki pahle ek meheni toh ki mujhe practice kanni hai islely mujhe practice ke bhao ke saath bul jau to agar ke saath pachkhan dho aur phir ek meheni ke bada mujhe sao dhan rena hai dhiray 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 apki practice ho jayegi aur practice ho jane ke karn kya ho jayega kiya ab mushti pachkhan lene le lenge sankit pachkhan lene koii gaant ke pachkhan lete hai koii viti ke pachkhan lete hai jab bhojan le nah ho ta hai kya kya nikaal di hai bhojan le le te páni pili le te páni pili pili piti lega te to jes dhin pachkhan liye jate is is prakar sa sankit pachkhan dhi jate to meri baat je hai kya si ap pachkhan le lete ap ap pa ni páni pili dhu ghen te páni te páni 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 kha de dh páni 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 te páni 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 kha ap 24 ghen me se 22 ghen páni Sì e il diritto in Pachkhan il nostro canale non è ne fa per Pachkhan il nostro canale e il nostro canale e il diritto in Pachkhan quando si abbiamo Pachkhan la vita si abbiamo Pachkhan il nostro canale e il nostro canale ci si è e cosa può fare e questo è molto facile cosa è che fa? guarda che la pranee che potete vedere danno che perchè lo si fa? lo si fanno bene si fanno bene si fanno bene e magari magari invece si fanno bene e magari aiuto come la sua vita e la che il cao è molto più quando si tratta di sottare quindi di sempre si fanno male a poco e poi il tuo dietitore si potrà fare un progetto e poi il docetore non ha detto che il tuo peso è diminuto! In un'implice in un'implice, il tuo peso è diminuto! Divanupriyoga, Gnana, Darshan, Chari tra e orta, isti qui arandina non ha il moksh di marghi isti qui arandina non ha il moksh di marghi ma una cosa ho capito che molto lungo non è sott che schutra do vattiesh agam con te satt aapna un tettiesh agam bina do qualunź attimagam e ha risaroso attimagam attimagam la Forte cioè che ci siamo in person attimagam 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 perché, se si si ci si ci si ha avuto, allora loro, ci si 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 ci si 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 ci si 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 accadeva, non sono un sanno vritto che aare di nero, non sono un sanno vritto che aare di nero, non sono un sanno vritto che aare di nero, la mia cosa che si 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 è accadeva, perché, come già si si ti abbia bisogno, in un secondo se si 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 atti, in questo caso Paghati sito che ci sono stati in mente, ma cosa succede in automaticamente? In 24 ore, in 2-5 ore, in resta, in un sannvrati. Quindi, in un sannvrati, in un sannvrati, e che ci sono questi sannvrati, ho visto molto piccoli, alcuni piccoli, alcuni piccoli, non sono tutte quelle dimensioni tutti alcuni piccoli, tutti colori non vale. Ma ha, non sta davanti all'interessate ma, non c'è. Si è, ci sono, e tutti i ragazzi e'alland treasury un-sante cos'ensi lo devi fare e'alland e'alland eнос come sancione e'alland 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 lo devi 않아요 e'alland qu Kitchen non tapi la qu familia e'alland che la l'and e'alland e'alland si e'alland corria e'alland poi i'alland non 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 così intanto te as te che potete attraverso e attraverso e attraverso per te contare e tu avete va a evitare la Gesine che ciò ha accanto di la Gesine la Gesine che ciò che ciò ciò ha la Gesine che ciò tra la un colline e e ora li vediamo e il giudice No, 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 no. Per questo il mio Dio ha detto che, perché avete vinto capire? Per questo il mio Dio ha detto che, che vuole essere l' сразу di essere la sua moglie, e la sua moglie essere l'azienda è la sua moglie. Il mio Dio, 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 ci sono le cose molto grandi. e mi sono un po' di più e io sono un po' di più e io sono un po' di più cosa è un po' di più e un po' di più